oh ah Simone ma scendi così da eh anche bene si 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 fermo ce la fai? fermo fermo io la so costruire la cosa cosi ma è complicatissima qui eh ma eh mamma mia ti ha messo tanto nana vai 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 c'è l'estro creativo vai e mentre fai il video fai le foto vai vai guarda a me ok c'è scritto REC si vieni vieni la vicina Ironman vai 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 più vicino più vicino bravissimo così non ti muovere non ti muovere ok andiamo a chiamare non ti muovere non ti muovere sono lì sono lì ecco dentro